E occuperò ora dei processi mentali che ciascuno di noi esegue quando parla, quando attua il linguaggio. Noi abbiamo visto persone capaci di calcoli precisissimi, di una memoria ferra. Ebbene, ciascuno di noi, quando parla, li esegue, ma nel modo con cui noi eseguiamo, per esempio, un calcolo mnemonico, 6 per 8, 48, il numero ci viene fuori immediatamente come risultato. Ebbene, noi siamo capaci con il nostro cervello di fare questi calcoli, solo che invece che numeri, alla fine vengono fuori delle lettere associate a questi calcoli. E sono fondamentali nello stabilire poi i concetti che noi vi assegniamo a parole. Sappiamo che i savant possiedono straordinarie capacità di calcolo e che tutti noi potremmo esserlo se il nostro cervello patisse alcuni danni. Ebbene, il linguaggio è per tutti noi un calcolo straordinario di questo tipo, che noi eseguiamo nello stesso modo. Sappiamo anche come la struttura atomica di tutta la nostra realtà concreta si è costruita in modo lineare grazie agli angstrom, che sono le unità di spazio atomico. Per ottenere un metro, l'unità dello spazio nostro, sappiamo che occorrono esattamente 10 elevato a 10 angstrom e che ogni singola potenza ha il suo significato preciso. 10 elevato a 0 è l'unità atomica, è l'angstrom. 10 elevato a 1 è il ciclo di 10 angstrom. 10 al quadrato è l'area, 10 al cubo è il volume, 10 alla quarta è il volume reale, ossia con lo spazio 3 e il tempo 1. 10 alla 5 è lo spazio elettrico oppure magnetico, 10 alla 6 è il volume in due versi, positivo e negativo. 10 alla 7 è il vincolo sferico che aggiunge ai 6 dello spazio ostoconale il raggio comune. 10 alla 8 è la realtà complessa, 10 alla 9 è tutto il moto del ciclo. 10 alla 10 è il metro, ossia il nostro riferimento unitario. Ebbene è elevato a 10, la base 10. Mentre avvalendoci della struttura atomica noi visualizziamo il mondo reale nella dimensione lineare del metro, avvalendoci della ideale struttura del linguaggio, noi agganciamo a quelle potenze delle lettere. In tal modo 10 elevato a 0 ha anche lo scopo di dare esempio del silenzio, una vocale non pronunciata. 10 alla 1 è la A, 10 alla 2 è la B, 10 alla 3 è la C, 10 alla 4 è la D e così via fino al 10 alla 10 che è la lettera L. E poi di seguito 10 alla 11 è la M, 10 alla 12 è la N, 10 alla 13 è la O per finire alla 10 alla 21 che è la lettera Z. Queste 21 sono esattamente 7 per 3, ossia le libertà della spera nelle tre dimensioni dello spazio. Ora potrebbe sembrare un artificio, un nostro arbitrio di noi giudici, persone che cerchiamo di capire come funziona il nostro cervello, ma non è per nulla un arbitrio. La stessa realtà che noi percepiamo a nostro livello di grandezza usando la struttura atomica, con la sua stessa struttura atomica, si rende accessibile a una valutazione di tipo ideale ottenuta attraverso le lettere. Ogni lettera diventa a sua volta la struttura ideale di una parola che corrisponde a un concetto che è memorizzato dalla nostra mente, al punto tale che con un perfetto automatismo, quando noi impariamo il significato ideale della parola, per esempio, amore, noi riconduciamo immediatamente questo concetto ad una realtà che nella sua sintesi sia 10 elevato a 46, proprio come l'interazione, il combinarsi di 10 alla 1 nella A, di 10 alla 11 nella M, di 10 alla 13 nella O, di 10 alla 16 nella R e di 10 alla 5 nella E. Il prodotto di tutte queste potenze determina in sintesi la potenza 10 alla 46 elevato a 46 e quando noi concepiamo amore ci stiamo riferendo espressamente alla struttura 10 alla 46. È una struttura che corrisponde a tutte le possibili strutture ottenibili moltiplicando le varie lettere. Ma quando noi eseguiamo proprio quel filo logico, quell'ordine indotto da susseguirsi delle singole lettere, noi attuiamo una metodologia di passaggio dai valori primari ai secondari ai terziari ai quaternari e così via, arrivando a definire la potenza 10 alla 46 proprio nell'ordine di amore. Un amore che se è amor è 41, ma può essere 41 anche quello che inverta il significato di amor in Roma. Quello che è diverso in questo caso è il primato, perché non è più assegnato alla potenza 1 che ha veramente il primato, ma alla potenza 16 che è quella della realtà 4x4. Poi segue in ordine la realtà 13 di tutto il movimento del volume nel ciclo 10, nella rho. E poi c'è la m che è ancora il primato di tutto il moto 1 dell'assoluto 10 alla 10. E poi infine c'è il primato assoluto che è dato proprio dall'unità posta su base 10. Di conseguenza Roma rappresenta il primato del realismo, mentre invece amor rappresenta proprio il primato del primato. Di conseguenza noi siamo messi in condizione richiamando questi valori numerici e nell'ordine in cui noi li memorizziamo di assegnare a un numero anziché un altro dei valori, anziché i valori esattamente opposti.